Le nostre istanze, quella del mantenimento del carattere industriale del titolo di Terni, ma anche della capacità di avanzare delle proposte di merito che noi vogliamo fare e le faremo anche come Regione, perché il presupposto anche per assicurare il mantenimento dell'attuale occupazione e anche il mantenimento futuro è che questa possa essere a tutti gli effetti un'industria che non abbassa la sua capacità produttiva, che non riduce i suoi volumi di produzione, che continua a fare innovazione e ricerca e che è a tutti gli effetti un'industria. Oggi queste garanzie dal piano che ci è stato presentato non le abbiamo, non le abbiamo sia per gli elevatissimi costi sociali che sono previsti, ma non le abbiamo neanche dalla strategia industriale che quel piano sottintende, e quindi a partire dal 4 vogliamo entrare nel merito e avere un confronto nel merito istituzioni locali insieme al Governo nazionale con la proprietà.